Se state riscontrando anche oggi l'errore riguardo su Windows Update, su Windows 10 che non riuscite così a installare questo aggiornamento, il codice, il codice errore 0x870422 è possibile risolvere il problema andando su servizi, ovviamente faremo molti passaggi, andiamo su servizi, scendi fino a giù fino a trovare così Windows Update, clicchiamo sopra su tipo di avvio, mettilo automatico, visto che lo stato del servizio è arrestato i aggiornamenti non funzionano e quindi non possono essere installati e facciamo avvia. Una volta avviato così il servizio di Windows Update dovrebbe andare, quindi facciamo applica e facciamo ok, una volta fatto andiamo direttamente su risoluzioni, problemi, quindi impostazioni, risoluzioni, problemi, altri strumenti di risoluzioni, problemi, più frequenti quelli che uso spesso io, Windows Update, facciamo così una scansione per rilevare così i problemi su Windows Update. Verifica la presenza di problemi in Windows Update rilevato, il problema è stato risolto, facciamo sì, chiudi strumento di risoluzione dei problemi. Una volta avviato, se non dovesse funzionare possiamo direttamente riscaricare gli aggiornamenti su Windows Update e riprovare con l'installazione. Farlo, dobbiamo andare nella cartella esplorare risorse file, questo pc, disco locale c, Windows, software distribution, download ed eccoli qua. Cancella così la cartella download. Una volta fatto svuota anche il cestino e riprova così a riscaricare gli aggiornamenti su Windows Update. Verifica disponibilità aggiornamenti. Gli ultimi aggiornamenti che ho installato sul mio computer, installazione riuscita 23 di settembre. In questo caso puoi semplicemente disinstallare dei vecchi aggiornamenti che hai fatto su Windows e riprovare a reinstallarli e poi riavviare il sistema. Quindi per altri problemi ancora puoi guardare le altre guide riguardo ai codici di errori su Windows Update che stanno tutti nelle schedine in alto a destra. Ho fatto anche altri tutorial sugli aggiornamenti di Windows Update e su come anche installarli manualmente senza usare Windows Update. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!